Ciao ragazzi da AgroLollo204 e benvenuti in una nuova serie ragazzi con intenzione di portare sul canale Vale a dire Minecraft Allora ragazzi qui ho già trovato intanto il nostro punto per farci una bella casa Con di fianco i campi tra l'altro guardate abbiamo una bella casa con vista mare E con anche vedete qua un bioma innevato con tanto di ghiaccio E ragazzi prima di dare il via al nostro cantiere per costruire la casa Lasciate like e iscrivetevi al canale detto ciò partiamo E con i materiali vediamo che cosa ci fornisce qui Minecraft Allora prendiamo queste assi di abete e questa qua Anzi no prendiamo questa e ci iniziamo a costruire la casa Intanto facciamoci il basamento così Va bene Oggi iniziamo a fondare le basi della nostra bella casetta Piccola semplici ma che protegge In più come avete notato sto giocando in creativa La sto costruendo Non sono ancora in sopravvivenza Però magari una volta potremmo provare proprio a fare in sopravvivenza In modalità proprio quella estrema Potremmo provarci un giorno ragazzi ad essere autosufficienti Ok questi qua sono i pilastri dove costruiremo i fianchi della casa Come vedete non è grande ma magari una volta Una volta fatta magari potremmo fargli le modifiche Le allarghiamo sapete Ecco qua come vedete Queste sono le pareti Insomma la sto costruendo proprio come una casa di montagne Con i lati che sono fatti di roccia E qui invece la parete vera proprio la sto facendo di legno Ok Bene 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 Qui tra l'altro dovremmo fare anche l'entrata L'entrata dovremmo fare E anche ovviamente dovremmo necessariamente farci un pavimento Ecco qua Adesso facciamo quest'altra fila qui Bene Ok 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 Olle E anche questa fila è finita Quindi magari Adesso si potrebbe iniziare a fare il tetto Ma prima Finiamo di costruire questa parete E dopo di che Potremmo iniziare a già costruire il tetto ragazzi Ok ragazzi Allora Adesso vi faccio vedere quello che sto facendo Guardate qua Guardate cosa sto costruendo per il tetto Un bel Una bella terrazza panoramica Con tanto di vista mare Eh ragazzi Questa abbiamo anche una bella Una bella vista sul mare In più La cosa brutta è che sta calando la notte Quindi Sento anche dei brutti rumori Direi di metterci delle lanterne Così non ci pensiamo più Qui Ma non me le fa Ah no ecco che me le fa mettere Ecco Le mettiamo Guardate Per fare tutto bello preciso Le mettiamo qua le lanterne Un'altra lì Perché raga Di notte Su Minecraft È il periodo più pericoloso Perché ci sono mostri Come i creeper Che esplodono E E ti fanno veramente un disastro Se hai costruito una casa Quindi ragazzi Assolutamente la nostra casa Dobbiamo Proteggerla dai Dai creeper Poi ci sono gli scheletri Che ti sparano con le frecce Poi Chi c'è altro Gli zombie Ecco Gli zombie villager Gli zombie villager Sono dei villager Che vengono zombificati Se attaccati da uno zombie Quindi Allora Ecco Questa è la nostra tettoia Quindi Anzi adesso vi faccio vedere un attimo La casa da lontano Come è venuta Niente male Quindi come ho detto prima Qui Avrei fatto la porta Una porta così Che adesso Andiamo a mettere Mettiamo una porta Di queste Mettiamo questa qua Di Porta cremisi Si ci potrebbe stare Mettiamo questa qua Oppure no eh No 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 Non ci sta tanto bene Mettiamo la porta Questa qui Classica eh La porta di quercia Mettiamo questa Carina Poi anche qua Ho intenzione di mettere Due lanterne Qui Ecco qua Quindi Adesso entriamo E come vedete È buio pesto E Qui non ho voglia di mettere torce Però andiamo tra le pozioni E vediamo Che c'è una pozione interessante Pozione divisa Notturna Con effetto Di 8 minuti Quindi se la beviamo Puff Come vedete Vedremo al buio Come se fossimo Un animale Quindi Adesso Qui dall'interno Potremmo farci Le finestre Ce le facciamo Così Così Che non è per niente male Guardate anche Come sono belle Poi ci mettiamo i vetri Vedete qua Che belle Qui Anche ci mettiamo Un'altra finestra Poi Qui Un'altra Un'altra Qui Ok Questo è qua E abbiamo finito Gli spazi Per le finestre Che adesso Andremo A riempire Facciamo Che li riempiamo Non con le lastre di vetro Ma con propri blocchi Quindi Così Così Tac Tac Almeno è più veloce Guardate Tac 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 Eh ciao Ho sbagliato Tac 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 Via Tac Ecco qua Ecco qua Ecco qua Le finestre Della casa Bene 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 Adesso Cioè Fatemela vedere un attimo All'esterno Con le finestre Veramente Veramente Bella Ragazzi Guardate Veramente Carina Magari Prossima volta Andiamo avanti Comunque ragazzi Questo In questo primo episodio Abbiamo iniziato a costruire la casa Che come vedete È semplicissima Ma la prossima volta Andiamo avanti La arrediamo E magari se riusciamo Creiamo anche i campi Che ho voglia di fare qui Con anche Con tanto anche di serra Comunque Se questo video vi è piaciuto Lasciate like E iscrivetevi al canale Detto ciò Ci vediamo Come sempre In un altro video Ciao ragazzi Ciao ragazzi